Grazie a tutti. Buongiorno, piacere anche per me, vi ringrazio e saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie per essere con noi, anche perché c'è un appuntamento molto importante che tra poco ricordiamo. Però intanto è da poco uscita la nuova edizione del libro Il resto è silenzio, dove si tratta la tematica della guerra, purtroppo ancora molto attuale. Mi è piaciuta però una frase che ho sentito da lei in qualche intervista, seguendola ovviamente, che la guerra parla anche con il silenzio. E noi questo silenzio purtroppo non abbiamo voglia di ascoltarlo. Eh sì, questo è stato un po' il mio approccio nella scrittura di questo libro e quindi il mio contributo. Cioè esplorare non gli aspetti del conflitto armato, ma esplorare quello che succede nella vita e nell'anima delle persone che sono colpite dalla guerra, a volte in modo diretto, violento, ma a volte proprio per il trauma di viverci. E questa sofferenza, questa complessità di sentimenti, di reazioni, spesso non riesce a trovare parole per dirci e si esprime appunto attraverso il silenzio. Io ho provato a esplorare con un romanzo, quindi in forma letteraria, questo aspetto qui, terribile, lacerante della guerra nella vita delle persone, in particolare delle donne perché racconta una storia di donne. Infatti, in particolare appunto soprattutto nelle donne. Tra l'altro c'è un collegamento tra la guerra dell'ex Jugoslavia alla guerra di questi ultimi mesi, cioè in Ucraina. Forse anche per questo che è partita la nuova edizione del libro? Sì, il libro infatti racconta una storia ambientata ai tempi della guerra nell'ex Jugoslavia e in particolare con un'attenzione particolare alla città di Sarajevo che è stata assediata per 46 mesi. Diciamo che è stato uno dei luoghi più tragici di quella guerra, di 30 anni fa ormai. Questo è quello che c'è dietro a quel romanzo e come è nata la scrittura di quel romanzo e di cosa parla. Il romanzo è uscito quindi parecchi anni fa, anche se non durante gli anni della guerra, è uscito comunque una decina di anni dopo. Abbiamo pensato con la mia casa editrice Baldine Castoldi che fosse giusto riportarla alla stampa oggi perché purtroppo fra quella guerra di 30 anni fa, la prima guerra in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale e questa nuova guerra in Ucraina, un'altra tragica guerra in Europa che non è la prima come alcuni hanno creduto, ma la seconda guerra in Europa dopo il 45, purtroppo ci sono delle analogie, purtroppo la guerra torna a dominare la scena europea e quindi ci è sembrato poi che in questa storia, ripeto, purtroppo tragicamente ci fossero tanti elementi ricollegabili alla guerra di oggi e poi abbiamo aggiunto dei materiali aggiuntivi, se abbiamo tempo poi le spiego quali. Certo, beh in questo libro lei racconta della guerra da un punto di vista femminile, nel senso che spesso sono le donne anche vittime di questa guerra, insieme ai figli che non impugnano armi ma rimangono a casa a soffrire. Sì, magari donne che non starebbero a casa per nulla, io racconto di una professionista il cui mestiere la portava pure in giro per il mondo, è un interprete come che era il mio mestiere quando ero più giovane e che però certo non ha fatto la scelta di combattere i miei personaggi, oggi diciamo i due personaggi bosniaci di Sarajevo sono due sorelle di una famiglia come erano molto tipiche nella Jugoslavia e come ce n'è tante anche in Ucraina e in Russia, anche se non se ne parla, molto mescolata, quindi una famiglia che in questa idea di farci la guerra per l'identità etnica o nazionale, non possono riconoscersi perché non sono solo serbe o solo bosnie che o solo croate, è una famiglia mescolata. In questa famiglia mescolata ci sono due fratelli e i quali due fratelli si schierano una dalla parte delle forze serbo-bosnie che assediano la città di Sarajevo e l'altra dalla parte delle forze musulmano-bosnie che la difendono. Ripeto, anche in Ucraina ci sono queste realtà, ci sono famiglie che parlavano sempre in russo, ci sono famiglie mescolate, un po' ucraina e un po' russa in Russia, ci sono tantissime famiglie che hanno legami profondi con l'Ucraina, non ne parliamo tanto, parliamo come se fossero due blocchi contrapposti, ma questa è la volontà di Putin di voler raccontare la Russia come tutta uguale, nemica dell'Ucraina e viceversa. In verità questa mescolanza c'è anche lì, quindi questa tragedia di una guerra che lacera le famiglie, gli affetti, le amicizie, è presente tuttora. In quella che racconto io si arriva alla tragedia perché questi due fratelli muoiono combattendo, uno dei due rimane insepolto e quindi una delle due sorelle di Sarajevo per recuperare il suo corpo poi viene uccisa a sua volta perché allora in città si sparava tantissimo, sparavano i cecchini e quindi si evoca l'antico mito di Antigone che muore per recuperare il corpo del fratello nemico anche in questo caso. Beh insomma ci ha raccontato un po' il libro e ci ha incuriosito parecchio, insomma cosa troviamo in questa nuova edizione? Allora, il romanzo è sempre quello perché un romanzo non si riscrive. No, no, ma certo, infatti però ci saranno delle cose nuove all'interno. Esatto, c'è una mia presentazione che racconta un po' la genesi di questo romanzo anche nella mia storia di attivista pacifista perché io sono stata molto impegnata nel movimento pacifista proprio durante la guerra in Bosnia e anche prima. È una postfazione scritta da una giornalista collaboratrice di Avvenire che è per metà italiana, per metà russa e che riflette proprio su questa questione delle identità mescolate, delle lacerazioni che si sono create con la tragedia di questa guerra e anche dell'opposizione che c'è in Russia di cui non si parla, di quell'altra Russia che non vuole la guerra. E poi ho anche aggiunto, per facilitare chi legge, una cronologia della guerra in Bosnia, della guerra nei Balcani perché quella guerra è stata molto dimenticata. E quindi io spero che se ne torni a discutere leggendo questo libro ma ho pensato anche che per facilitare lettori e lettrici era utile dare un po' di informazioni su che cosa è successo allora. Quello sicuramente. Allora, siccome ci siamo incuriositi parecchio, ricordiamo l'appuntamento il 30 marzo perché ci sarà la presentazione del suo libro, il libro di Chiara Ingrao, la nuova edizione Il resto è silenzio, alla Biblioteca Passerini Landi di Piacenza, presso la Sala Monumentale. Ovviamente noi Chiara ci saremo perché siamo veramente molto curiosi e avremo voglia di ascoltarla pieno in questa bella serata, va bene? Vi ringrazio molto di questa attenzione e buon lavoro allora. Grazie ancora. Ricordiamo ancora Chiara Ingrao, il 30 marzo alle 17, Sala Monumentale della Biblioteca Passerini Landi per presentare Il resto è silenzio, dove si raccontano le guerre di ieri ma purtroppo anche quelle di oggi. Grazie ancora Chiara Ingrao. Grazie a voi. Grazie a voi.